Io lo dico in modo molto poco tecnico, sono una cittadina italiana, so com'è fatta l'Italia, così mi viene intuitivo pensare che con tutte le montagne, i golfi, i mari, ma soprattutto appunto le cime a guzze, io penso che un sistema tecnologico che permette di trasmettere dall'alto sia più coerente, io ho visto e forse sono stata suggestionata anche da quello, ho avuto la fortuna di visitare a Parigi la sede Eutelsat, con questa sala di comando che sembra la NASA, i satelliti che partono, al di là della suggestione, e comunque, ripeto, è intuitivo anche per chi non è tecnico, non è un fisico, non è uno scienziato, pensare che la trasmissione via satellite è molto più efficace che attraverso il digitale terrestre, a maggior ragione in un paese come l'Italia che non è l'Olanda. Grazie a tutti.